il tiro da tre che va a segno Pen si prende davvero la responsabilità una responsabilità pesantissima bomba a 4 minuti e 20 secondi dalla fine Veroli a meno 2 una bomba sicuramente fondamentale però continuiamo a vedere che Veroli non riesce a trovare soluzioni alternative al tiro da tre adesso una palla riconquistata molto bene Pen si fa tutto il campo il palveggio subisce fallo da parte di Tomasini riesce a realizzare e avrà anche un tiro libero supplementare